Ciao. Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Tommaso Zorzi è stato pizzicato in questa maniera e i fan insorgono. Lo vede ovunque. È ancora innamorato e non lo vuole dire. Vogliono tutti sapere la verità in merito. L'influencer viene messo sotto torchio. Si fa beccare così Tommaso Zorzi. Lo vede ovunque e non lo nasconde. È ancora innamorato e i suoi follower sono elettrizzati. Vogliono saperne di più su questa storia e non lasceranno perdere finché non avranno ottenuto una risposta. Non si sa se l'influencer abbia voglia di rispondere però. Quel che è certo è che l'ex GFino attira molta curiosità su di lui. Sulla sua vita e sulle sue scelte sentimentali e non Ecco che cosa sta succedendo al vippone extra ricco che partecipò allo show di riccanza in passato Tommaso Zorzi è ancora innamorato e lo svela così. Tommaso Zorzi. Come avrete visto dai suoi diversi scatti social. Si è concesso una lunga vacanza estiva a Stromboli. Dove si è divertito molto insieme ai suoi amici e familiari. Come aveva dichiarato qualche settimana fa. Ho fatto solo il biglietto di andata per Stromboli Non so quando tornerò. Sicuramente sarò qui fino al 20 agosto. Ma qualcosa mi dice che resterò anche di più In tutto ciò. Sto da solo perché i miei amici arrivano il 4 e ne approfitto per stare per i ca' asterisco asterisco i miei Cosa che adoro fare. Durante questi giorni di beatitudine. L'ex GFino ha dovuto fare i conti anche con utenti social non proprio educatissimi nei suoi riguardi Con totale stupore da parte sua. Zorzi ha così riportato un commento acidissimo ricevuto in privato. Ti sei fatto più tondo in viso Ti sei pesato? Secondo me hai preso un po' di chili. La replica dell'influencer ovviamente non è tardata ad arrivare. Immagina concepire questo concetto e scriverlo al diretto interessato Ha risposto esterrefatto Tommaso Ritorno di fiamma. Tommaso Zorzi. Come dicevamo si sta godendo le sue vacanze di totale relax e tra le ultime sue storie social Ha mostrato ai suoi follower il libro che si sta apprestando ad iniziare a leggere sotto l'ombrellone Fin qui nulla di strano in realtà. Se non fosse per quei follower che sostengono che il ragazzo della copertina Assomigli in tutto e per tutto all'ex di Zorzi. Tommaso Stanzani Così i suoi seguaci hanno iniziato a dare di matto. Per alcuni l'influencer è ancora innamorato dell'ex ballerino di amici Per altri ancora lo vede ovunque e per altri ancora questo sarebbe un messaggio subliminale nei confronti di Stanzani per fargli presente che lo pensa ancora Tutte teorie plausibili ma anche senza fondamenta. Finché non sarà lo stesso Zorzi a confermare questo ritorno di fiamma Questi rumors hanno iniziato a diffondersi dopo la percezione che in molti si sarebbero fatti sulla fine della storia d'amore tra Tommaso Zorzi e Andrea Incontri Tra l'altro anche questa storia mai ufficializzata è tantomeno parlato di rottura Quindi finché non avremo una dichiarazione in merito dallo stesso ex GFino. Per il momento non possiamo dire nulla di certo Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie a tutti